14 aprile 2004. Il genovese Fabrizio Quattrocchi, impiegato in una compagnia militare privata in Iraq e rapito insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio da un'associazione terroristica denominata Falangi Verdi di Maometto, viene ucciso dai suoi sequestratori. Il video della sua esecuzione viene inviato alla televisione araba Al Jazeera. Prima di morire, Quattrocchi cerca di togliersi la benda dicendo adesso vi faccio vedere come muore un italiano. Nel 2006 Quattrocchi è insegnato della medaglia d'oro al valore civile, alla memoria.